Non è scritto a parlare il senatore Lucidi, prego. Grazie, grazie Presidente. Colleghi, membri del Governo, ma sono degli interventi molto particolari quelli che facciamo questa mattina perché purtroppo più che entrare nel merito ci troviamo tutti qua comunati da un grande senso di sdegno contro il comportamento della maggioranza e del Governo. È già stato detto, io denuncio con forza e segnalo a lei, signora Presidente, di riportare poi alla Presidente Casellati quanto è avvenuto questa mattina in Commissione Affari Esteri, a mio modo di vedere un fatto assolutamente vergognoso perché la Presidente Casellati ha assegnato alla Commissione Affari Esteri, come a tutte le altre commissioni, il parere, la richiesta di parere sul decreto rilancio, questo tomo di 266 articoli che sicuramente si pone al primo posto nella decretazione della Repubblica Italiana. Quindi noi avevamo preparato un parere di minoranza, ebbene con sfrontatezza istituzionale la Presidenza della Commissione Affari Esteri ha ritenuto di non esprimere un parere perché non ritiene di sua competenza questo decreto rilancio. Quindi a fronte di una richiesta della Presidente Casellati la Commissione Affari Esteri in assoluta autonomia ha deciso di non esprimere parere, quindi questo foglio di carta, questo pezzo di carta rimarrà carta straccia. Sicuramente non per noi, la Presidente ha già denunciato questo fatto dicendo che noi siamo il Parlamento degli invisibili, allora da oggi saremo anche il Parlamento degli inascoltati perché non soltanto siamo qua a svolgere una nostra funzione ridotta all'osso ma addirittura neanche possiamo esprimere i pareri nelle commissioni perché la Presidenza della Commissione Affari Esteri ritiene che le misure in tema di esportazione e internazionalizzazione come rifinanziamento per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata per i mercati esteri non siano di competenza della Commissione Affari Esteri il rifinanziamento del Fondo 394-1981, della legge 394, non sia di competenza della Commissione Esteri l'incremento del capitolo 25-15 del Mise non è, secondo la Presidenza del Senato, competenza della Commissione Affari Esteri così come secondo la Presidenza della Commissione Affari Esteri non è di competenza le misure per l'accoglienza per le strutture per il sistema di protezione delle persone richiedenti asilo e tutta una serie di altre argomentazioni come per esempio la funzionalità dei nostri uffici all'estero della nostra rete diplomatica consolare in considerazione anche del ruolo cruciale che tali uffici svolgono nella strategia di rilancio economico del nostro Paese ecco allora ci chiediamo perché la Commissione Affari Esteri ritiene che tutte queste argomentazioni non siano di propria competenza io invece in questa questa mattina in questo breve intervento che lascio agli atti per significare invece che noi vogliamo ribadire la nostra funzione parlamentare qui noi abbiamo un tomo ripeto di 266 articoli che sta passando in quest'Aula nella nella sonnolenza nella noia della maggioranza eccola qua la maggioranza che sostiene questo governo distratta come è stata distratta l'altro giorno durante le ratifiche e diciamo denunciamo questo fatto e scriveremo sicuramente una lettera di dimostranze alla Presidente alla nostra Presidente Castellati che già ha segnalato questo fatto sicuramente noi non vogliamo essere né invisibili né inascoltati grazie